I classici sono la classica cipolla, pallone di Maradona e ultimamente va di voga il quota 100. In effetti i realizzatori di questi prodotti prendono spunti dal momento di chi è il personaggio del momento dell'anno. E quindi quest'anno hanno preso quota 100. Ma non sono altro che degli ordigni esplosivi che assolutamente non vanno né utilizzati ma soprattutto non vanno utilizzati dopo che essi non sono esplosi. E' devastante perché lei immagina che un prodotto del genere può portare via una mano, un quota 100 e all'interno contiene sì e no una decina di grammi, quota 100 e comincia ad avere 700-800 grammi di questi miscugli esplodenti che poi diventano esplosivi e quindi diventa devastante. L'appello fondamentale è quello di non comprarli, è la cosa fondamentale. Nel momento in cui vediamo utilizzare qualcuno che utilizza questi prodotti allontaniamoci il più possibile. Nel momento in cui troviamo, dovessimo trovare a terra questi prodotti inesplosi, assolutamente di non toccarli perché è anche il semplice prenderli in mano e tentare di aprirli e se possono esplodere. Ma soprattutto non tentarli di andarli a riaccendere. Non a caso ogni anno i maggiori danni li incominciamo ad avere dal primo gennaio in poi, proprio per questa tipologia di prodotti che sono inesplosi.